C'era anche un po' di Abruzzo al Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d'Oro, venerdì 14 giugno 2019, quando presso il Consiglio regionale del Lazio e Roma, nella prestigiosa Sala Michelli, il Comitato dell'Ordine del Gran Premio Internazionale di Venezia ha premiato anche l'attrice pescarese Morena Gentile, originaria di Pescara per meriti cinematografici. Il cammino artistico di Morena inizia con la partecipazione a vari concorsi di bellezza come Miss Italia, dove l'attrice pescarese vince la fascia di Miss Eleganza Abruzzo, una ragazza per il cinema e Miss Adriatico. È solo l'inizio di un percorso formativo e lavorativo che vede l'attrice abruzzese impegnata tra spot televisivi, cortometraggi e lungometraggi. Morena Gentile prende parte infatti a fiction come Luisa San Felice, miniserie della Rai, il latitante film di Nini Grassia e alla soppopera agrodolce per la Rai. Dopo un periodo dedicato alla famiglia riprende il suo percorso artistico con più maturità ed entusiasmo, partecipando a spot come cooperazione internazionale prodotto dal Ministero degli Affari Esteri con Gianmarco Tognazzi e cortometraggi che la vedono protagonista con la regia di Pierluigi Di Lallo, già fatto e si può fare. Partecipare al concorso di Miss Italia e arrivare proprio alla diretta di Rai 1 come finalista è stata un'esperienza veramente meravigliosa ma ancora di più perché ho avuto modo di conoscere dei grandi del cinema come Alberto Sordi. Dopodiché invece ho iniziato con dei corsi, ho fatto teatro inizialmente qui a Pescara in Abruzzo con il maestro Enzo Garinei e a seguire anche corsi di doppiaggio con Roberto Pedicini e Cristian Janzante. Poi a Roma ho avuto il piacere di conoscere ulteriori registi e maestri come Gabriele Muccino, Michele Placido, Popiavati e anche Giancarlo Scarchilli con cui ho girato appunto l'ultimo suo lavoro e devo dire che lì è stato veramente bello perché mi ha scelto come protagonista per questo suo ultimo lavoro. Più di recente, nel 2018, Morena ritorna a fare cinema nel film Nati due volte di Pierluigi Di Lallo ed è protagonista nel cortometraggio ancora inedito di Giancarlo Scarchilli, storie di straordinaria ordinarietà con attore protagonista Claudio Bigagli. La sua ultima interpretazione è quella nel film Burraco Fatale, diretto dalla regista Giuliana Gamba con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni come protagoniste femminili. Prossimamente Morena Gentile sarà impegnata anche nella nuova pellicola dei registi Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi che hanno recentemente firmato il lungometraggio Movimento, l'Ira di Achille al quale il 7 luglio 2019 a Pescara sarà conferito il Pegaso d'Oro nell'ambito della 46esima edizione del Premio Internazionale Flaiano per la sezione cinematografica. Diciamo che questa conoscenza con Stefania e Francesco è stata un amore a prima vista, sarò una delle loro protagoniste. Ritorno nuovamente in Abruzzo su Pescara perché la maggior parte del film sarà girato a Pescara e di questo ne sono veramente fiera e lieta.